Andiamo sulla statale di là per Volterra. Volterra, saliamo dentro, l'arderello, facciamo tutti i su e giù. Perché è stato il primo giorno? No, non ci siamo mai stati di là. Poi veniamo fuori, questa qua facciamo Monteverdi e arriviamo in cima alla sassetta, passando a Monteverdi. Ok? C'è andato? No, è quello che le tiravo io, al contrario. Non è grande, se poi vediamo che, magari facciamo la sassetta, però volevo arrivare qua con 100-110 km, di modo che dopo facciamo il giro ancora di Volterra, qui là, qui su e giù, un po' più tirato. Così magari chi era stacco si poteva fermare qua, perché bisogna fare un po' dietro macchina, un po' di scacco per il finale. Vediamo. 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 Vediamo.